buongiorno oggi parleremo certamente di un pesce noto a tutti stavolta non c'è diciamo la classificazione cioè perché è una famiglia unica che li comprende tutti ok quindi dato che è un pesce classe pesce famiglia quindi non tratteremo una specie specifica ma una famiglia in generale cioè la famiglia dei serra al si serra salmine detta così non la conosce nessuno in realtà tradotto in italiano più che in italiano perché in realtà il portoghese e spagnolo sarebbe piragna avete capito bene proprio quei pesci che sembrano simpatici ma simpatici non sono ci sono diciamo cinque generi di questa sottofamiglia dei serra del serra salmine che include i pesci erbivori quali il pirattus braico pomus e il mendis argentus quindi diciamo due sono erbivori scusate se non ho detto bene i nomi latini però due sono erbivori ma tutti gli altri non sono erbivori allora dove vivono la reale in amazzonia cioè sono sostanzialmente pesci fluviali quindi questo è il primo pesce fluviali osseo che faccio sono pesci fluviali dell'amazzonia quindi stanno solo in sud americano la foresta amazzonica per cosa sono celebri per questi pesci per i denti affilati capace di tranciare un amo e per un appetito vorace per la carne ovviamente lo avete visto tutti no? almeno una volta nella vita i piranni ne sono veramente simpatici pesci all'inizio ma poi diventano spaventosi predatori vediamo un po' le caratteristiche infatti si trovano appunto in guiana paraguai come avevano detto rinoco rio della plata insomma sono un pesce tipicamente fluviale tipicamente sud americano nell'areale la descrizione non è un pesce di grossa taglia difficilmente supera il mezzo metro quindi solito dai 25 40 centimetri vive però abitualmente in vasti branchi che possono contare alcune migliaia di individui l'aspetto del piranni è completamente simile a quello di un qualunque pesce di fiume il corpo è molto alto e marcatamente compresso lateralmente lungo tutto il dorso scorre una cresta che si congiunge alla prima pinna dorsale mentre la seconda in genere è piccola e atrofica le scaglie sono piccole il colore quindi la rivea varia a seconda della specie dal verde opaco con suo motore rossiccio al nero fino a toni argenti quindi può essere rosso verde nero all'incirca argentato rapido a dispetto delle costituzioni apparentemente tozza a muscoli potenti può spostarti molto velocemente la caratteristica più distintiva della specie diciamo quella che ha reso famoso questo pesce e senza dubbio la bocca appunto simile a una tagliola la mandibola molto pronunciata è armata con una fila di grandi denti triangulari molto affilati i cui margini coincidono perfettamente con quelli dei denti della mascella superiore più piccoli ma ugualmente affilati questa struttura assieme ai potenti muscoli delle mascelle rende la bocca del piragna uno strumento oltremodo efficiente il gatto di tranciare di netto e con un solo morso un boccone di carne dalla preda allora il piragna preso singolarmente è un pesce non tranquillo cioè tranquillissimo però siccome questi pesci non stanno mai da soli ma sono pesci gregari pesci che stanno sempre in gruppo sono pesci feroci e famelici oltre ogni modo infatti il piragna un pesce gregario vive in gruppi anche molto numerosi che a volte giungono a popolare interi tratti di fiume quindi immaginate un po da solo non farebbe niente agli esseri umani poi in generale ma siccome loro stanno tutti insieme sono letali molte discorse sono le sue abitudini alimentari se infatti nell'immaginario collettivo sono dipinti come voraci cacciatori studi e testimonianze fanno emergere dati contrastanti in alcuni inzonti infatti gli abitanti possono fare tranquillamente il bagno nei fiumi mentre in altri sono pochi gli individui che non hanno perso almeno un dito a causa dei pesci perché sono molto voraci per noi esseri umani ma cosa mangiano attacca diciamo principalmente altri pesci piccoli animali acquatici sono occasionalmente critici grandi animali che entrano in acqua ma quando il risultato è devastante quando succede quindi mangiano sostanzialmente i piccoli pesci però se tipo un capivara che una specie di passatemi il termine roditore gigante del sud america entra in acqua oppure un cervo un cavallo è il risultato è devastante lo riducono in pochi secondi all'osso e fanno quella specie di vortice che insomma l'acqua diventa rosso in pochi secondi alla fine il povero animale è ridotto a uno scheletro incredibile infatti c'è scritto che può spolpare in pochi minuti una pecora o un cavallo per esempio a dispetto della sua cattiva fama la pirania svolge un'importante evoluzione di spazzino del fiume eliminando le carcasse di animali morti evitando la potrefazione e mantenendo pulite le acque quindi anche utile all'ambiente perché fa è un pesce spazzino secondo alcuni le pirania questo interessante avrebbero lo stesso sistema sensore degli squali che permette loro di percepire quantità anche minuscole di sangue nell'acqua perciò notare che una ferita aperta aumenterebbe le probabilità di un attacco in pratica sta dicendo che come gli squali che sentono il sangue a chilometri di distanza nell'acqua anche i pirania sono così effettivamente è vero effettivamente è una cosa che ho notato diciamo spesso ecco nella cultura di massa vediamo un po nella cultura con esseri umani rapporto come nella cultura per esempio popolare brasiliana è definito boi dei pirania letteralmente bue dei pirania quello che in italiano è definito agnello sacrificare come mai l'espressione proviene dalle zone rurali dell'interno del brasile dove al momento di dover attraversare un fiume infestato da pirania a una manda di buoi i vaccari abbattono dei tori vecchio malati e gettano il suo corpo sanguinante nel fiume per attirare i pesci carnivori in questo mondo la manda dei vaccari attraversano indisturbati il fiume in pratica cosa fanno prendono un bue vecchio lo uccidono lo buttano dentro e loro per passare il fiume indisturbati gli esseri umani tengono i pesci come si dice i pesci impegnati ecco scusate che non mi viva la parola nel cinema ecco nel cinema vediamo un po il pirania per un essere umano nei media hanno fatto un bel po di film uno che si chiama pirania del 72 l'altro si chiama un altro che si chiama pirania del 78 killer fish agguato sul fondo del 79 pirania paura del 82 pirania la morte viene dall'acqua del 95 viaggio pirania 3d del 2010 mega pirania del 2010 e pirania 3d del 2011 quindi hanno fatto un bel po di film su questo pesce no però non è non è solo questo ci sono altre cose che diciamo sono attorno a questo pesce compare in altre parti per esempio compare anche nella celebre cortometraggio serie di cortometraggi street shark degli anni 90 precisamente del 1994 in cui c'era questo pazzoide che è un pazzo è un professore pazzo che trasforma per sbaglio i 44 esseri umani in squali e lui stesso si muta e lui di stesso diventa dottor pirania quindi diventa il cattivo e quindi appunto compare anche in questa serie ma non è tutto non è tutto ragazzi scusate se vi sta venendo lungo ma sul pirania c'è da dire molto perché per esempio è anche una popolazione proprio proprio indigena dell'amazzonia dove questo pesce vive è un veicolo c'è una cosa è tutta una una bertone pirania cioè la casa italiana bertone ha fatto questa concerta basata sulla jaguar compare in qualche videogioco per esempio il pippino pirania non domandati qual è però comunque tipo è un da serie di videogiochi di mario quindi pippino pirania immagino che sia un cattivo di di super mario poi per esempio è un sistema è un sistema di data di data mining quindi roba tecnologica è una solta anche addirittura una cosa chimica perché c'è scritto soluzione pirania miscela di acido solforico e per ossido di idrogeno utilizzate per particolari pulizie addirittura per esempio può essere pure anche molti musicisti hanno dedicato diciamo a questo pesce la loro musica per esempio sì l'oriver schedi the grace prodigi ex exodus e vari sono gruppi e anche musicalmente usato poi sono ovviamente anche aeri missile aria che si chiamano così veicolo corazzato svizzero movag pirania us pirania sottomarino casse statunitense quindi sono anche mezzi di trasporto diciamo così della militari quindi aerei missili veicoli corazzati e sottomarini e compare anche nel fumetto della dc comics pirania press del 1989 93 poi è anche un personaggio della marvel comics addirittura quindi due compare anche qui è anche un giornale sadirico degli studenti del trinity college di dobrino e sono anche aziende diciamo di editor di software statunitense quindi quelle che fanno i videogiochi quindi questo pesce nella cultura di massa ha avuto veramente un impatto potentissimo effettivamente è un pesce con esseri umani molto molto feroce e aggressivo penso singolarmente dicevamo non fa nulla ma siccome questo pesce non sta mai da solo e anche con una goccia di sangue come gli squali li attrae e uccide un essere umano in pochissimi secondi anche per questo ha fatto così tanti film e ha suscitato quasi a livello degli squali l'incubo degli esseri umani scusate ancora se il video è venuto lungo probabilmente sarà il video più lungo ma c'era veramente tanto a dire su questo pesce grazie a tutti ciao ciao